Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico congestionato ci sono 6 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sempre in direzione Bologna ricordiamo che sono chiuse le corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci per lavori con conseguente chiusura dello svincolo di Firenze in Pruneta. Sul tratto si sono formati 2 km di coda. Ci sono inoltre 3 km di coda per traffico congestionato sul tratto appenninico tra Aglio e Calenzano e code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fipili per lavori traffico rallentato tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione Firenze. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!